Grazie a tutti. Anche se furbescamente lui si è riservato alla parte più divertente, quella più piena di immagini e di filmati, lasciando a me l'onere di catalizzare il residuo della vostra attenzione su una presentazione ingegneristica, quindi piuttosto arida. Vi parlerò, facendovi una promessa iniziale di sintetizzare il più possibile, di uno dei problemi della progettazione cosiddetta ingegneristica di un'opera come la condotta sottomarina, che come abbiamo ormai visto più volte è un'opera che attiene a vari rami dell'ingegneria e non solo dell'ingegneria. Il mio intervento può essere, credo, efficacemente sintetizzato in questa slide. Mi occuperò innanzitutto dei criteri di verifica di stabilità delle condotte sia dei tratti interrati che dei tratti invece posati sul fondale, per esempio i diffusori. E una volta esaurita questa, dicevo, breve trattazione, si arriverà ad una conclusione alla quale possiamo arrivare anche già da ora, per intuito. Cioè che bisognerà calcolare certamente alcuni parametri relativi al motondoso e quindi le forzanti metomarine affinché una verifica di questo tipo possa essere condotta correttamente. Non parlo a proposito di correnti, ma di parametri del motondoso, non perché le correnti non siano importanti per la stabilità delle condotte. Certamente le correnti marine agiscono sulla condotta e sono forze che tendono ad instabilizzare il sistema. Tuttavia possono essere trascurate in questo tipo di problematiche perché il loro intervento di ordini di grandezza inferiore rispetto a quello del motondoso. E' un po' il contrario di quello che avviene, come vedrete, in sede di diffusione, dove invece ad essere trascurati sono spesso le forze dovute al motondoso del mare. Partiamo quindi dalla stabilità di un tratto di condotta interrata. Questa è una condotta sottomarina poggiata sul fondo di una trincea prima ancora che sia avvenuto il ricoprimento. Il ricoprimento che può essere essenzialmente di uno di questi tre tipi. O effettuato, mediante materiale rinvenuto in sito, con semplicemente uno strato superiore di tuvenan, oppure con strati di massi, uno o più strati di una o più categorie. Ebbene, in questi casi, lo studio della stabilità di una condotta sottomarina si riduce, tra virgolette, alla determinazione del punto critico di moto incipiente di questi sedimenti. Che, se messi in sospensione, quindi in moto, potrebbero lasciare scoperta la condotta e lasciarla esposta alle azioni, intanto del mare stesso, del motondoso stesso, e poi alle azioni di martellamento dello stesso materiale che si era ipotizzato per il ricoprimento. È un problema, se ci pensiamo, molto simile a quelli che spesso vengono affrontati in idraulica fluviale. E dall'idraulica fluviale è mutuato anche questo tipo di abaco, che in idraulica fluviale è l'abaco di Schiltz, per intenderci, quello sicuramente meglio noto, e che invece per l'idraulica marittima è l'abaco di Brunone. In sostanza, questo abaco ci viene incontro perché ci consente, entrando nell'abaco, di stabilire in quale zona ci troviamo, semplicemente. Se ci troviamo in una zona di movimento, il progettista dovrà intervenire sull'unico parametro che ha a disposizione, cioè sull'appesantimento del materiale che aveva scelto per il ricoprimento della condotta. Quello che mi preme sottolineare è semplicemente che per entrare in questo abaco si ha bisogno del numero di Reynolds d'attrito, il Reynolds star, e di una tau star che è direttamente proporzionale allo sforzo tangenziale al fondo, a sua volta dipendente da questo UMF, che è la velocità massima al fondo indotta dall'onda di progetto. Di questa onda parleremo più diffusamente nel seguito. Per quello che riguarda invece la stabilità delle condotte posate sul fondale, dei tratti di condotta posata sul fondale, il discorso è un po' più complesso. Bisognerebbe in effetti procedere ad una caratterizzazione idrodinamica delle forze derivanti dal motondoso e che colpiscono una condotta sottomanina che può essere schematizzata con un corpo cilindrico più o meno snello. Per tener fede alla mia promessa di sinteticità, questa trattazione, so che vi troverò d'accordo, la salteremo e andremo un po' a esaminare il caso tipico della condotta sottomarina. Quello che ancora una volta mi preme invece sottolineare è che anche in questo abaco, che ci serve per caratterizzare il regime idrodinamico delle forze, si entra attraverso la conoscenza di alcuni parametri del motondoso, in questo caso lunghezza d'onda, periodo e velocità, o meglio componente orizzontale della velocità, questa volta non sul fondo ma in asse con la condotta, quindi con il corpo cilindrico che stiamo considerando. Quindi andando direttamente al caso che più ci interessa, quello cioè che si trova nella parte arancione del grafico, quella che si ha per numero di Keulegan Carpenter maggiore di 4 e parametro di diffrazione in ascissa di su L minore di 0,1, che è il campo tipico delle condotte sottomarine, il regime delle forze agenti su una condotta sottomarine che dovremo considerare è quello rappresentato schematicamente in questa figura. Si tratta, come vedete, di forze alla cui determinazione, almeno alcune di esse, risulta piuttosto banale laddove si conoscesse il peso specifico del liquame che attraversa la condotta, chiaramente il peso specifico del materiale che costituisce la condotta stessa. Gli unici problemi sono queste tre forze di tipo idrodinamico, quelle racchiuse dalla parentesi graffa, che sono le forze di drag, di inerzia e di lift, della cui determinazione ci occuperemo più nello specifico. Per andare poi ad impostare un equilibrio molto banale, qualsiasi ingegnere avrà fatto decine di volte, ossia imporre che la sommatoria delle forze verticali prese con il segno, moltiplicate per il coefficiente ad attrito, debba essere posto maggiore o uguale alla sommatoria delle forze orizzontali. Dicevo, le forze di tipo idrodinamico, di drag, di lift e di inerzia, possono essere calcolate attraverso l'uso di una serie di modelli analitici che sono presenti in letteratura, il più diffuso dei quali è certamente il modello di Morrison. Il modello di Morrison ha, per così dire, un difetto, quello cioè di sovrastimare le forze idrodinamiche che esso stesso è chiamato a determinare. Ma siccome questo mette normalmente il progettista in una situazione di maggior sicurezza, visto che le forze idrodinamiche sono forze instabilizzanti per il sistema, il modello è ancora oggi molto utilizzato. Questo anche perché fornisce, come hai detto, delle relazioni per la determinazione delle forze idrodinamiche piuttosto semplici. La forza di drag, ad esempio, dipende essenzialmente dalla componente orizzontale, ancora una volta dalla velocità indisturbata indotta dal motondoso, oltre che dal CD, coefficiente idrodinamico di drag. Molto similmente, la forza di inerzia dipende, questa volta, dall'accelerazione indotta dal motondoso e da un coefficiente idrodinamico di inerzia. Ancora una volta, la forza di lift dipende sempre dalla velocità della componente orizzontale della velocità indotta dal motondoso e dal coefficiente proprio idrodinamico di lift. Questi tre coefficienti possono essere calcolati piuttosto semplicemente attraverso l'uso degli abachi di Brindum, che hanno in ascissa il numero di Keolegan Carpeter che abbiamo già incontrato prima, che a sua volta dipende dalla componente orizzontale della forza indotta dal motondoso. Adesso non ci potremo più sottrarre dal, come dire, affrontare il discorso del calcolo di questi parametri del motondoso. E quindi si forniranno alcuni elementi utili per la determinazione delle cosiddette forzanti meteomarine che agiscono sul sistema e che consentono quindi il calcolo della stabilità del sistema stesso. Questa è una flowchart tipica di questo tipo di problemi, che vede come prime fasi del lavoro l'inquadramento geografico e il reperimento dei dati, che non è sempre un'attività molto semplice da effettuare. Attraverso poi i modelli di ricostruzione si arriva ad una serie storica dalle caratteristiche del motondoso e poi parallelamente si può procedere al calcolo del clima meteomarino medio, e sto parlando sempre di acque profonde, che in idraulica marittima sono molto diverse dalle acque intermedie e dalle acque basse, poi la vedremo questa distinzione importante, oppure dagli analisi degli eventi estremi e quindi al calcolo di questa benedetta onda di progetto che ci serve perché i parametri dell'onda di progetto verranno inseriti nel calcolo delle forze che ci danno l'instabilità del sistema. Tutto questo, dicevo, alle acque alte, alle acque quindi profonde, bisognerà poi propagare quest'onda di progetto, una volta calcolata, fino alle acque intermedie e alle acque basse, questo per consentirci di applicare il nostro modello a tutti i punti della condotta che ovviamente attraversa anche le acque intermedie e le acque basse prima di arrivare, se ci arriva, in acque profonde. Ricostruzione del clima meteomarino a largo. Dicevo, il reperimento dei dati non è attività molto semplice da effettuarsi. I dati possono essere essenzialmente di due tipi, dati di vento e dati di boa, quindi dati di mare, e di elevazioni dalla superficie del mare. I primi, i dati di vento, ci consentono l'applicazione dei cosiddetti metodi indiretti, indiretti perché appunto si passa da vento e si arriva ad un risultato che è un'onda. I secondi invece, quindi i metodi di boa, ci consentono l'applicazione di metodi diretti, che come immaginerete hanno una precisione maggiore, perché si tratta di operare su, come dire, elementi omogeni, su dati omogeni. Tuttavia, i dati di vento sono ancora molto utilizzati. Il perché di questo fatto è, credo facilmente, evincibile dall'osservazione di queste due carte, che ci segnano il numero di anemometri presenti sul territorio nazionale. Sulla destra c'è la rete molto fitta di anemometri gestita dall'aeronautica militare. Sulla sinistra, invece, gli anemometri gestiti dalla rete mareografica nazionale, che, come il nome stesso vi suggerirà, gestisce anche la rete dei mareografi, ossia dei misuratori di livelli di maree. Come vedete, gli anemometri presenti sul nostro territorio sono numerosissimi. C'è un motivo per questo. L'anemometro è uno strumento a relativamente bassa tecnologia, che ha un costo anch'esso relativamente basso, e soprattutto che ha costi di manutenzione bassi. Gli anemometri sono, normalmente, come quelli che vedete in figura, sono montati ad un'altezza sul livello del mare per circa 10 metri, ma, siccome sono montati su aste telescopiche, sono, come dire, molto banalmente riportabili a terra, e gli interventi di manutenzione su di essi possono essere fatti tranquillamente, senza bisogno di alcun mezzo particolare. Così non è, invece, per le boe ondametriche. Questa è la mappa, invece, delle boe ondametriche, delle ondametri, gestiti dall'ISPRA, ex APAT, Agenzia per l'Ambiente, oggi ISPRA, che costituiscono la RON, la Rete Onda Metrica Nazionale. Come vedete, gli strumenti sono in numero molto minore rispetto agli anemometri. E questa è una carta che possiamo già definire storica, perché, in effetti, tutti questi strumenti non sono oggi in esercizio. l'ISPRA sono in fase di manutenzione. Non si sa quando, e soprattutto non si sa se, visto che stiamo in epoca di spending review, saranno rimessi a mare per acquisire dati, dopo che lo hanno fatto con rendimenti piuttosto buoni, per un numero di anni pari a 25. Ma la Rete Onda Metrica Nazionale non è l'unica rete di ondametri, per fortuna, presente sulle nostre coste. Alcuni enti locali, e anche alcune società private, hanno provveduto a dormeggiare i loro strumenti, fra questi c'è sicuramente la Regione Puglia, che è stata una delle prime regioni ad adottarsi di una propria rete di monitoraggio meteo-oceanografica. Questa rete, peraltro, è stata progettata e gestita anche dal Politecnico di Bari fino al 2011. Dal 2011 in poi è passata sotto la gestione dell'autorità di Bacino della Puglia, sul cui sito potrete reperire e scaricare gratuitamente i dati di tutti gli strumenti, che non sono solo ondametri, ma, come vedete, sono costituiti anche da sei anemometri e da quattro mareografi. Tutti i dati vengono trasmessi via GSM in un unico centro di controllo e in un unico database che si trovano fisicamente nella sede di Valenzano dall'autorità di Bacino Pugliese. Le onde, chiedo scusa, gli ondametri sono strumenti un po' più delicati rispetto agli anemometri, intanto perché vengono posizionati chiaramente in mare, quindi in un ambiente, come dire, fra i più aggressivi presenti in natura. Sono strumenti a più alta tecnologia, certamente molto più costosi, che funzionano con, sono alimentati con batterie che quindi vanno periodicamente sostituite attraverso interventi di manutenzione che sono piuttosto onerosi perché vanno condotti con imbarcazioni e da operatori qualificati in operazioni di ormeggio e di disormeggio di questi strumenti. E poi, scusatemi se faccio questo riferimento, si ha a che fare con i pescatori. Non sempre è molto facile avere rapporti con i pescatori, si ha spesso difficoltà di differenti punti di vista, soprattutto perché i pescatori ritengono ancora di dover seguire la vecchia legge del mare, per cui tutti i corpi natanti che essi trovano in mare li considerano di loro proprietà. E non è raro, il professor Damiani ne saprà qualcosa, ricevere richieste di riscatto vero e proprio da parte dei pescatori che hanno disormeggiato la boia e se la sono portati a casa loro, gli hanno fatto fare una ventina di miglia marine e dopodiché ci telefonano dicendo abbiamo trovato questa boia in mare, quanto ci date per rimetterla dove stava? Dopodiché gli facciamo notare semplicemente che fra i tanti sensori di cui è dotata la boia c'è anche un GPS e per cui noi abbiamo capito quando è stata disormeggiata, abbiamo registrato un'altezza d'onda di 6 metri pari alle murate della sua barca e poi questa onda si è spostata per 20 miglia fino a portarla da Barletta a Monopoli come ci è capitato, ragione per cui riconsegnano la boia facendoci però un danno perché tutto il sistema d'ormeggio è perso e quindi va riacquistato, fatto venire appositamente dall'Olanda e lo strumento va riormeggiato. Questo quando i pescatori stessi con la pesca a strascico, non essenzialmente consentita, tracinano boa e corpo morto come se fosse un fuscello e il corpo morto di una boa è un blocco di calcestruzzo di 500 kg. In ogni caso, questi strumenti hanno a bordo essenzialmente tre accelerometri che attraverso la misurazione di accelerazioni riescono a restituirci attraverso una doppia integrazione banale gli spostamenti dalla superficie del mare nel punto ovviamente in cui la boa è ormeggiata. Che cosa fa la boa? La boa è un processore internamente, processa i dati e ogni mezz'ora ci fornisce una riga di questa tabella. Processa i dati sia con operazioni di tipo statistico che con operazioni di tipo spettrale tirando fuori l'altezza significativa dalla quale magari avete sentito parlare che è un'altezza d'onda molto importante per noi ingegneri e che è la media del terzo superiore delle altezze d'onda presenti nella registrazione. Quindi la boa classifica le onde si prende il terzo più alto calcola la media dell'altezza e ci restituisce direttamente questa altezza che per gli usi ingegneristici forse è la più importante di tutti così come ci restituisce il periodo di picco il periodo medio la direzione e la temperatura del mare. Da queste tabelle classificando per direzione di provenienza e per classi di altezza significativa si ricavano altre tabelle come quelle che state vedendo in figura che graficizzate ci danno la rosa del motondoso che è un grafico piuttosto frequente da vedere in questo tipo di problemi. Questo grafico con un solo colpo d'occhio ci consente di determinare la direzione di provenienza la frequenza di apparizione delle onde e la qualità delle onde perché il colore è associato all'altezza significativa come vedrete forse dalla leggenda. Questo grafico sintetizza il clima meteomarino a largo. Si tratta ora di andare a determinare a fare un'analisi degli eventi estremi e quindi si tratta di determinare l'altezza o meglio l'altezza e il periodo e le caratteristiche dell'onda dell'onda di progetto. Prima però vi dico che questo tipo di elaborazione è stata già fatta per alcune per otto boe almeno della rete ondamentrica nazionale ed è stata pubblicata ad esempio nell'Atlante delle onde dei mari italiani per cui questi grafici sono già disponibili in rete o sull'Atlante per alcune quasi tutte le boe della rete ondamentrica nazionale così come il Politecnico noi abbiamo provveduto a fare la stessa cosa per le boe che abbiamo gestito per la rete diciamo regionale che abbiamo gestito fino al 2011. Dicevo stiamo al punto in cui bisogna calcolare adesso l'onda di progetto naturalmente ci rifaremo a metodi probabilistici perché le onde di vento sono eventi evidentemente di tipo stocastico quindi non potremmo fare riferimento a metodi di tipo deterministico e come tutti i problemi di statistica bisognerà trovare un'altezza d'onda HS di assegnato tempo di ritorno dove il tempo di ritorno è una definizione a tutti nota nel nostro caso il numero di anni in cui questa altezza d'onda viene mediamente raggiunta o superata una volta solo nei problemi riguardanti le condotte sottomarine normalmente il tempo di ritorno viene posto pari alla vita utile dell'opera stessa e cioè tipicamente a 50 anni ovviamente si può anche aumentare il tempo di ritorno con le conseguenze che tutti dovremmo essere in grado poi di affrontare naturalmente l'analisi statistica va avanti attraverso la ricostruzione della serie tronca che può essere fatta o considerando solo i massimi annuali delle registrazioni oppure come nei nostri casi quando non si ha un numero di anni di registrazione molto elevato e noi ne abbiamo solo 25 utilizzando il metodo POT peak over threshold che considera solo eventi superiori ad una certa soglia dopodiché si ricerca la legge statistica che meglio rappresenta i dati che noi abbiamo inserito nella serie tronca le leggi sono tipicamente quelle di Gumbel di Weibull di Fühler ovviamente si applicano dei test statistici per vedere qual è la legge che è meglio approssima fino ad avere un grafico di questo tipo dove con i punti blu abbiamo le osservazioni della serie tronca gli eventi della serie tronca con la linea tratteggiata alla curva di probabilità e con le curve rosse se si vedono l'intervallo di confidenza al 90% questo è un caso in cui la distribuzione di Weibull approssima in modo ottimale quelle che sono le nostre osservazioni da questo grafico è facile arrivare ad una tabella di questo tipo dove abbiamo per ogni valore del tempo di ritorno associata un valore dell'altezza significativa massima e quindi abbiamo diciamo così risolto il nostro problema di ricercare il parametro che ci serve dell'onda di progetto quest'onda però bisogna poi propagarla sotto costa perché questa è un'onda calcolata nei fondali profondi per noi acque profonde si intendono quelle in cui la profondità dell'acqua è maggiore della semilunghezza d'onda e la lunghezza d'onda è quella che vedete in figura la distanza fra due creste consecutive dell'onda se quindi le profondità sono maggiori della semilunghezza d'onda per un idraulico marittimo l'acqua è profonda e questa distinzione è molto importante perché vedete quei cerchi sono le traiettorie delle particelle d'acqua al di sotto del pelo libero in acque profonde queste traiettorie non interessano i fondali cosa che invece accade man mano che i fondali diminuiscono e quindi si passa in acque intermedie e in acque basse che cos'altro cambia cambia la forma dell'onda le altezze d'onda crescono le lunghezze d'onda diminuiscono in una parola aumenta la ripidità dell'onda fino ad un limite in cui l'onda collassa collassa proprio staticamente dando luogo a quel fenomeno che tutti conosciamo essere il frangimento che è il fenomeno dissipativo per eccellenza delle onde di mare di tutte queste cose e anche di un'altra di un'altra situazione che accade planimetricamente l'onda i fronti d'onda avvicinandosi alla costa mutano cambiano anche la loro direzione mutano la loro direzione questo per un fenomeno fisico che non sto qui a spiegarvi ma tendono a disporsi parallelamente alle linee batimetriche cioè alle curve di livello alla topografia diciamo dei fondali di tutte queste cose bisognerà tener conto nei modelli di propagazione che dovremmo applicare all'onda di progetto calcolata a largo per portarci alla sottocosta e quindi applicarla ai punti della nostra condotta sottomarina qualunque sia il tipo di modello che decidiamo di utilizzare una cosa questi modelli hanno in comune ed è il tipo di input di cui hanno bisogno la batimetria ossia la diciamo la topografia dei fondali e le caratteristiche del motondoso che è quelle di cui ci siamo occupati fino adesso a largo cioè quindi altezza, periodo e direzione del motondoso a largo per quello che riguarda la batimetria queste sono ad esempio le carte dell'IIM che possono essere vettorializzate per scale non molto grandi possono essere utilizzate anche queste batimetrie più spesso si commissionano soprattutto per studi un po' più particolari dei rilievi multibim ne abbiamo visti tanti nella giornata di oggi questo è quello del porto di Bari e quindi si applicano questo tipo di input al modello avendo una situazione più o meno di input di questo tipo e il modello in output ci restituirà una carta in cui ad ogni nodo della griglia è associata una freccetta la cui direzione chiaramente è indicativa della direzione di provenienza dell'onda e la cui lunghezza è proporzionale all'intensità quindi abbiamo le caratteristiche dell'onda di progetto propagata in tutti i punti di questa griglia e quindi in particolare in tutti i punti della condotta sottomarina dove vogliamo effettuare l'analisi della stabilità avendo queste caratteristiche dell'onda dobbiamo semplicemente adesso calcolarci quella benedetta componente orizzontale della velocità e dell'accelerazione che ci serviva per applicarla alle formule del modello di Morrison le formule non sono particolarmente complesse quello che è interessante notare è che non sono costanti nel tempo queste due grandezze dipendono dal tempo secondo una cosinusoide e una sinusoide avendo una situazione alla fine di questo tipo questo andamento temporale della velocità e dell'accelerazione che come vedete non sono costanti questo implica che nemmeno la sommatoria delle forze orizzontali e verticali che comparivano in quell'equilibrio saranno costanti nel tempo assumeranno invece questo andamento e questo costringerà il progettista ad effettuare due per ogni punto due verifiche di stabilità quelle che si ha in corrispondenza del massimo della sommatoria delle forze verticali e quelle che si ha in corrispondenza del massimo delle forze orizzontali quindi per ogni punto bisognerà effettuare due verifiche di stabilità differenti ho tutto questo con questo io ho finito vi lascio con una immagine di una interessante alternativa che abbiamo trovato sulle coste di un'isola campana delle condotte sottomarine che è questa questa bella immagine non vi dirò mai nemmeno sotto tortura dove l'ho fotografato grazie